Quali emozioni provi oggi? Un misto di emozioni, però super positive. Sono molto contenta, anche emozionata. Tantissime. Oggi mi sento una diva, mi sento una sposa, perché sono vestita di bianco e amo il mio trucco, amo il mio look e devo ringraziare tanto a Piero per questa giornata insieme alle ragazze. Allora, devo essere onesta, sono molto tranquilla, ma felice allo stesso tempo, perché ho avuto delle bellissime donne. Sono molto emozionata, devo dire la verità, anche perché per me è un po' nuova questa cosa. È un po' tutto un po'. All'inizio tanta ansia, tanta voglia di fare, e poi tanta felicità, tanta contentezza, felicità di aver conosciuto Piero e grandi ragazze con cui sto divinando questa esperienza. Ho un mix di emozioni dentro e sono felicissima. ero un po' spaventata, agitata, perché comunque era la prima volta, però sono felice. Allora, sono molto emozionata, sono molto felice e orgogliosa di poter rappresentare la bellezza Curvi in Italia.